Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Invece l'animale sta salendo in fase di salita con la risulta, in percezione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un'altra cosa che è molto importante, e che è stato dimostrato per la prima volta con ogni strategia, è che la riconoscenza della spina pro-action e della spina pro-action è possibile. Quindi questi dati dimostrano che utilizzando questo cellulare nel gruppo fattorio è possibile, ma è funzionale e anche più logico, più chimico e più di più. In altri esperimento, lo che... e noi possiamo riportare la spina pro-action. che si è animale, che si è un recupero motorio, quindi si è anche... si può innovare la spina pro-action elettricamente. Quindi... anche la fibra nevosa muscolare viene... è fondamentale per i motori. e questo sta pubblicato in una rivista del... di una de los años, una di sana anche per questo. quindi... quindi... sono studi, sono riviste molto prestigiosi, studi molto vecchi. eh... eh... altre cose che... eh... è modulare per le sue visioni, con antagonista e anonista. ok? quindi anche... si può intervenire farmacologicamente su una testa di rinnovazione muscolare dando degli agonisti e degli apprendi. e quindi vuol dire che funziona normalmente. quindi... in conclusione... olfactory incidilia, attività di provoce functionally, coerio paraplegic rats, and spinal cord repair, when transplanted, attività cronica stages... quindi... tutti i presentati dimostro che nell'animale, nel ratto, in una... in una pianta di questa scena, devo dire del punto fattorio, hanno un effetto funzionale così. ma... what is important here, is that we can delay transplantation for several months, and this allows patient sterilization before starting, and also outflow with transplantation. e quindi... per quanto è importante che questi... questi trapianti possono essere stati anche all'istalto del tempo della versione. e quindi... well... the others... have several grades... for the system of... so... uh... then... mmm... we have... succeed in... in... in animal model... dati... presentati di noi, sono numerati... mi devo dire... and since our souls, many other groups have started working... for part of this idea... and... and now they are... eh... and... and now... and now... and now... and now... and now... and now...